Sono tornate a nuova vita le colonne in legno che reggevano i palchetti del teatro di Elisa Baciocchi a Palazzo Ducale. Furono realizzate nel 1806 e finita l'epoca napoleonica finirono nel dimenticatoio. Ritrovate poco tempo fa, sono state restaurate e giovedì sono state presentate nell'atrio del banco BPM in piazza San Giusto. Rimarranno qui fino al 18 ottobre prima della ricollocazione nel loro ambito originario, nel teatro di corte fatto realizzare a Palazzo Ducale dalla sorella di Napoleone, principessa di Lucca e Piombino. Un ritrovamento e un restauro importantissimi perché si tratta di due pezzi unici in tutta Europa. Di tutte le colonne dei teatri di corte napoleonici solo quelle di Lucca sono state ritrovate. Avevamo recuperato materiale documentario che ci diceva che erano esistite come sostegno dei palchetti del teatro di Elisa a Palazzo Ducale. E poi con grande sorpresa e piacere abbiamo ritrovato queste due colonne dimenticate in una delle sale dell'archivio della provincia. Abbiamo scoperto poi essere due colonne uniche in Europa perché Bernard Chevalier, presidente della fondazione Napoleone, ha detto che non esistono altre. Le due colonne sono state restaurate grazie al sostegno del banco BPM, del Rotary Lucca e della fondazione Cassa di Risparmio. Non è stata un'impresa facile perché il legno in due secoli è stato aggredito dall'umidità, dai tarli e altri parassiti. Devo dire che il restauro che è stato eseguito da Laura del Muratore è stato veramente fatto con estrema cura e diciamo che adesso abbiamo garanzia che durino ancora un bel po' di tempo.